Buongiorno, questo video per illustrarvi una operazione di trading che abbiamo appena concluso sul titolo Azimut, un'operazione durata due giorni, quindi l'ho mantenuta in overnight, chiusa oggi, mercoledì 21 aprile, aperta ieri, martedì 20 aprile. In particolare l'ho aperta proprio poco dopo l'apertura del mercato, operazione ovviamente short, sul livello 20 e 110 alla violazione ribassista dell'indicatore supertrend, qui indicato in rosso. Questo grafico ha scansione temporale a 30 minuti ed è assolutamente bene intellegibile sia nell'intraday che anche nel multiday per quanto riguarda il mantenimento delle posizioni per 2, 3, 4 sedute. Quindi sono entrato short, ripeto, alla violazione del supertrend sulle livello 20 e 110, per fortuna il mercato è sceso, è sempre sceso, ha accelerato fino ad arrivare molto vicino a 19,700, poi rimbalzato, poi nuova accelerazione ribassista e poi praticamente chiusura del mercato con l'after hour che ha mantenuto le quotazioni in laterale. Noi siamo rimasti in posizione overnight pensando che la giornata di oggi potesse, almeno nella parte iniziale, continuare la discesa realizzata il giorno prima, in realtà fin dai primi minuti si è visto un titolo azimut decisamente più tonico, un tentativo di rialzo e una volta che abbiamo superato la media mobile a 25, qui indicata in verde, e quindi una volta che il titolo sembrava avvicinarsi pericolosamente a quello che era il nostro livello di training stop, sempre rappresentato dal supertrend, ho deciso di chiudere l'operazione e l'ho chiusa sul livello 19,800. Col senno di poi ho fatto male perché in realtà poi il mercato ha nuovamente invertito e avrei potuto avere migliori soddisfazioni ma non potevo saperlo e mi sono attenuto a quelle che sono le mie regole del trading, cioè in questo caso il superamento della media mobile e l'avvicinamento al supertrend che per me erano livelli di training stop. Poi il mercato ovviamente va per conto suo e in questo caso ho avuto una sorta di falso segnale. Però comunque l'operazione si è conclusa positivamente, short da 20,110, chiusura a 19,800, un guadagno di 31 centesimi, non ho detto lo specifico oggi, adesso che avevo 2.400 azioni, azioni, la performance realizzata è per quanto riguarda fondamentalmente poco più di una giornata di trading, anche forse solo 24 ore di trading, una performance dell'1,54%, amplificata dal fatto che ho investito un capitale piuttosto alto perché avevo 2.400 azioni e il guadagno è stato quindi di 744 euro lordi. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading.